secondo me il punto di forza del corso di laurea in matematica essere circondati da studenti con la tua stessa passione a uno studente delle superiori interessato a matematica direi di provarci e di non farsi bloccare dalla paura di non trovare un lavoro dopo la laurea. Questo percorso offre sbocchi nelle professioni più disparate proprio perché non indirizza verso un lavoro specifico ma aiuta a formare un modo di ragionare utile ovunque. Ad uno studente delle superiori consiglierei di parlare con gli attuali studenti di matematica prendersi conto che siamo esseri umani e non bisogna essere dei geni per fare matematica non bisogna avere pregiudizi ma mettersi alla prova. Un punto di forza nel nostro corso di laurea è l'attenzione che i professori hanno per noi. Con 100 più studenti è più difficile stringere rapporti tra gli studenti e i professori. Oltre ad approfondire la matematica teorica abbiamo la possibilità di aggiungere al nostro piano di studi corsi di altre discipline per poter ampliare le nostre conoscenze nei vari ambiti come economia, statistica e informatica ma anche chimica, biologia e molto altro. Il principale punto di forza del corso di laurea in matematica è il nostro continuo sforzo per migliorare il livello. Due anni fa siamo diventati uno dei dieci dipartimenti di eccellenza per la matematica in Italia e quest'anno abbiamo voluto aggiungere ancora qualcosa di nuovo inserendo un curriculum didattico all'interno della nostra laurea triennale rivolto a studenti che sono interessati all'insegnamento. Abbiamo un'importante rete di collaborazioni con università e enti di ricerca di eccellenza fra cui un consolidato accordo con la Sissa per la laurea magistrale. La Sissa è un'università che c'è a Trieste che offre master e dottorati di altissimo livello scientifico. Questa rete di collaborazioni rende il nostro ambiente di apprendimento molto dinamico e ricco di proposte e di possibilità. D'altra parte non abbiamo un numero eccessivamente elevato di iscritti e questo ci permette di mettere lo studente sempre al centro del processo formativo. I corsi di base della triennale permettono ai nostri studenti di sviluppare quella mentalità da matematico che li rende formidabili problem solver. Per questo i nostri laureati sono molto apprezzati all'interno del mondo del lavoro dove non hanno difficoltà a inserirsi. Inoltre durante la triennale si studiano matematica applicata e informatica e inoltre si possono aggiungere corsi di materie attinenti. Poi durante il percorso magistrale si possono approfondire la matematica applicata, la matematica pura, oppure ci si può rivolgere ad altre discipline partendo però sempre da base matematiche forti. Concludendo il mio consiglio finale è semplice, se vi piace la matematica iscrivetevi senza paura a matematica.